Buongiorno Orchidere di Mirozaro, Orchidiana Medicina per l'Anima. Nuovo video sulle pallenopsi, ne abbiamo già fatti due, adesso abbiamo il terzo. Allora, ieri l'altro io vi ho parlato di alcune cose, adesso vediamo delle altre. D'estate, chi ha la possibilità può portarle all'aperto, sta molto bene all'aperto. Quando le porterete all'aperto lo vedrete proprio che gli piace. C'è la bellissima, quando abbiamo fatto l'intervista, c'è la bellissima risposta di Adelindo di Roma, che è un grande personaggio delle orchidee di Roma, che ha scritto, lui ha una serie di orchidee bellissime, dice, alla fine di marzo a Roma, perché Roma ha un clima diverso che qui a Varese, alla fine di marzo alcune orchidee sembra che vogliono uscire dalla sera a tutti i costi, anche camminando sulle radici, proprio si vede che gli piace. Però, portarle fuori, bisogna portarle fuori quando è il momento. Allora, per comodità, tutte le orchidee d'appartamento si dividono in tre grandi gruppi, in base alle temperature notturne d'inverno. Quella da caldo, da temperato e da fresco. Le falenopsi sono quelle da caldo, vivono in zone tropicali a livello del mare, per cui amano caldo. Poi ci sono tante da temperato. Sono quelle che orientativamente, nelle zone tropicali, vivono intorno agli 800, tra gli 800 e 1500 metri. Poi ci sono quelle da fresco, ci sono quelle di montagna, anche quali cimbedium, tante plerotalidine, tanti dendrovium, che hanno bisogno di notti fresche perché sono orchidee di montagna. Tanto che, per esempio, l'Italia è molto diversa da un posto all'altro. Per esempio, da Varese a Palermo c'è una bella differenza di temperature. E poi, anche nello stesso, qui dietro, abbiamo una montagna che è il Campo dei Fiori, che è alta circa 1200 metri. Morosolo è circa 300 metri dal terzo. Ma noi siamo in versante a sud del Campo dei Fiori e abbiamo un clima ben diverso a 300 metri dalla parte a nord del Campo dei Fiori, per cui varia molto da un posto all'altro. Allora, per capire quando è il momento di portarle fuori, ci si basa sui vestiti. Allora, quando si ripone il capotto nell'armadio, si portano fuori quelle da fresco, come i cimbedium, alcuni dentrobium, tipo un chingiano, un nobile, così. Quando alla sera, cioè quando si mette nel capotto il maglione pesante, allora vi portano fuori quella del temperato, le catlei, le cambrie, gli uccidium. Quando poi alla sera si esce solo con la camicia, si portano fuori le palenopsis. Alla fine dell'estate, quando sopra la camicia, mettete lo spolverino, è ora di aver ritirato le palenopsis, perché sono piante che sopprono in freddo. Per cui, chi ha la possibilità di portarle fuori, va bene portarle fuori. Come abbiamo detto ieri, le mettete in questi vassoi preformati, in modo che un colpo di vento, un po' d'aria, non le rovescia e possa dargli una certa stabilità, facendo dei buchi sotto. Quando si portano fuori, lo vedete veramente, lo vedete che vi dicono che bello, però quando si ritirano, bisogna fare una buona pulizia, perché quando si portano all'aperto, tutti i problemi, le malattie, i parassiti, i funghi, tutti gli insetti che vedete sui libri, non li avrete mai visti, magari. Quando le portate fuori, le vedete tutti. Per cui, quando si rientrano, bisogna fare una buona pulizia, una buona pulizia della pianta, si consiglia sempre di aiutarsi con un vecchio spazzolino da denti morbido e anche sotto il primo strato di corteccia, perché ci sono tanti insetti notturni che durante il giorno si nascondono sotto il primo strato di corteccia. e poi è opportuno fare una buona disinfezione con un insetticida e un fungicida largo spettro prima di portarle in casa. Questo è molto importante perché appunto fuori ci sono un sacco di cose che in casa non vedrete mai. Poi, portare piante ad aperto alla luce, l'abbiamo dato ieri, sono piante da ombra, cioè da ombra, da non tantissima luce, vanno intorno ai 10-12 mila lux. Per farvi un esempio, le catrae vogliono 30 mila lux e le vanno anche 40 mila lux. Per cui, d'inverno, le falenofsi possono prendere quel poco sole che c'è da fine, adesso io sto parlando per qua a Varese, a fine gennaio così, a cominciare a non fargli prendere il sole diretto che le può ostionare le foglie ed è stato all'ombra. D'inverno abbiamo poca luce perché d'inverno abbiamo i giorni corti. Durante i periodi più bui abbiamo all'incirca 8 ore di luce al giorno e una luce anche molto blanda, molto mentre d'estate bisogna ombraggiare, d'inverno, se possibile, bisogna illuminare. Oggi è molto di la moda i LED. I LED costano poco, sono molto efficaci, durano tanto, perché una volta si usava delle costose lampade avendo popoli di sodio e odori metallici e che durano anche poco perché ogni tanto vanno sostituite perché si degradano. Mentre i LED durano tantissimo, costano poco, sono molto efficaci e durano anche molto senza deteriorarsi. Se volete mettere i LED, perché anche qui la tecnologia continua a evolversi, attualmente sembra che la cosa migliore sia di mettere un 60% luce fredda, un 20% luce calda e un 20% di lampade per l'orticultura. Abbiamo come tecnico Federico Viganò che di lavoro fa l'illumino tecnico e per hobby è appassionato di orchidee e ci tiene aggiornati su queste cose qua. Una cosa molto importante è di non usare lampade piccole ma lampade piuttosto grandi o anche strisce perché le lampade molto piccole creano delle zone d'ombra che si possono vedere solo con degli strumenti appositi e delle zone di troppa illuminazione che possono bruciare le foglie per cui cercate di prendere delle lampade non piccole come dimensioni ma piuttosto grandi a parità di potenza. Se mettete l'illuminazione artificiale d'inverno vedrete che ne avrete un grosso beneficio l'ideale sarebbe di fare 12 ore di giorno e 12 ore di notte per cui se l'accendete l'accendete il mattino non so dalle 8 al mattino alle 8 di sera o dalle 7 alle 7 come vi pare con un timer che anche quali oggi quali elettronici costano pochissimo e ne avrete un grande beneficio lo vedrete lo vedrete sulle piante proprio che va bene lo dico sempre c'è una cliente che mi ha detto che suo figlio ha lavorato due anni in Svezia e lei una volta è andata a trovarlo è andata a trovarlo e dice che è andata a trovarlo d'estate e anche d'estate loro in Svezia a Caponosce è il sole di mezzanotte cioè il sole non tramonta mai va giù, va giù, va giù poi tornerà su perché hanno 6 mesi di luce 6 mesi di buio dice che d'estate con tantissima luce che hanno hanno un sacco di lampade perché hanno la fobia del buio hanno il terrore del buio e appunto perché la luce porta allegria porta mentre la poca luce porta depressione di fatto in Svezia nei paesi nordici d'inverno c'è un sacco di suicidi perché proprio la mancanza di luce porta depressione porta queste cose qua per cui come dice un amico tanta luce evita cioè avete la roba più allegra e come dice questo amico qua si litiga meno in famiglia va bene la concimazione una buona regola è concimare ogni tre bagnature praticamente ogni tre volte che bagnate come abbiamo detto si bagna quando il vaso è leggero oppure quando le radici tendono all'argento e si bagna finché diventa pesante oppure finché le radici diventano verdi la concimazione una buona regola appunto ogni tre volte che si bagna la quarta volta prima si bagna con l'acqua e poi si ribagna immediatamente dopo con il concime con l'acqua con cui è diluito il concime diciamo che se uno ha poche piante va bene un concime un 20-20-20 un concime bilanciato tutti i concimi hanno questi numeri che si chiamano titoli che sono i percentuali di azoto a fosforo a potassio per le falenopsis dei problemi perché si accumula e c'è dei problemi di salinità per cui d'inverno si conciva molto meno a meno che mettete l'illuminazione artificiale se mettete l'illuminazione artificiale allora d'inverno generalmente in casa il fattore limitante è l'idride carbonica perché le piante utilizzano l'idride carbonica attraverso la luce per fare la fotosintesi ed emettono ossigeno d'estate non c'è problema perché c'è tanta reazione d'inverno si apre un po' con le finestre e quando l'illuminazione carbonica scende a livelli troppo bassi la fotosintesi non ha più luogo e allora la cosa migliore da fare sarebbe nelle ore più calde del giorno socchiudere un momentino le finestre in modo di avere un ricambio d'aria basta socchiudere la finestra per pochi secondi per avere un ricambio d'aria e va bene anche per la nostra salute a tenere un'aria più più salbre vabbè dai domani andiamo avanti con la coccimazione ok